Cambio ai vertici di Gori, l'azienda che gestisce le reti idriche di oltre 74 comuni in Campania, con il riunirsi dell'Assemblea dei Soci, ha deliberato le nomine di presidente ed amministratore delegato. Sarà Vittorio Cuciniello, classe 1974, originario editore del Greco, a ricoprire la carica di amministratore delegato Gori. Cuciniello succede a Giovanni Paolo Marati, nell'azienda di gestione idrica del territorio. Laureato in ingegneria meccanica presso l'Università degli Studi di Napoli, Federico II, Cuciniello ha già in passato ricoperto ruoli strategici in Gori, per poi divenire, nel 2019, amministratore delegato di GESESA, società che gestisce le reti idriche del Beneventano. E' con grande emozione che torno in Gori, ritrovando un'azienda che ho visto crescere, nella quale io stesso sono cresciuto. Queste le parole dell'amministratore delegato, Vittorio Cuciniello. Nuovo profilo anche per la presidenza dell'azienda idrica, nel ruolo di presidente l'avvocato salernitano Sabino De Blasi, patrocinante in Cassazione e presidente della Corte d'Appello di Salerno Energia. De Blasi succede al prof. Michele Di Natale, presente in Gori dal 2016 al 2021. Assumere questo incarico è per me un grande onore, alla luce soprattutto del notevole lavoro svolto da Michele Di Natale, a cui vanno i miei ringraziamenti. Gori, oggi è un'azienda forte e consolidata sul territorio, sarà per me una sfida a ricoprire al meglio questo ruolo, il commento del nuovo presidente Sabino De Blasi. Completato il consiglio di amministrazione di Gori, l'avvocato penalista Luigi Mennella, che mantiene l'incarico di vicepresidente vicario della Corte d'Appello, la responsabile sviluppo e organizzazione Human Resource di Acea Federica Marinetti e l'avvocato amministrativista Virgilia Fogliane.